Tragedia in autostrada, morti nonno e nipote. Erano a bordo di una moto che si è schiantata contro il guardrail. L'incidente è lungo la 1 all'altezza di San Vittorio, al confine tra Campania e Lazio. Le vittime avevano 68 e 10 anni, erano di Angri nel Salernitano, da chiarire le cause della tragedia. Covid, 34 contagiati, molti rientri dall'estero, numeri sempre alti per i casi positivi registrati nel bollettino dell'unità di crisi. Si tratta nella maggior parte di vacanzieri rientrati da oltre confine. Da stasera obbligo di mascherina all'aperto parlano i cittadini, giusto così. Torrecuso contagiata un'intera famiglia, prima la madre, poi il figlio e la moglie, tutti ricoverati in ospedale a causa del coronavirus. Sale a 4 il numero delle persone residenti nel Sannio ricoverate in ospedale. Intanto però si registra anche la prima dimissione in Irpini a 3 casi in 48 ore. Uccide la moglie e fa credere al suicidio. La donna era stata trovata senza vita in casa al Lago Patria il 12 luglio scorso. Oggi la svolta nelle indagini dopo i risultati degli esami autoptici. Era stata strangolata. Arrestato il marito 63enne che aveva fatto credere che la moglie si fosse impiccata. Regionali, De Mita rompe il patto con Renzi. L'accordo per creare una lista comune a sostegno di Vincenzo De Luca. La guida della campagna è saltato. Il sindaco di Nusco nega intese con l'ex premier mentre il vice di Renzi, Rosato, chiarisce noi siamo un'altra cosa. Scempio a Pompei, selfie sul tetto delle terme. Sul caso la sovrintendenza ha aperto un'indagine dopo che è stata diffusa la foto della turista salita sul tetto delle terme centrali. Violati di vieti imposti dal parco archeologico, ma è lungo l'elenco degli scempi nell'area degli scavi. Questi erano i titoli di stasera, ben ritrovati anche su Facebook con 8 Channel News. In apertura il tragico incidente sull'autostrada Milano-Napoli a perdere la vita nonno e nipote originari di Angri. Le vittime, rispettivamente 68 e 10 anni, viaggiavano a bordo di uno scooter di grossa cilindrata quando per causa in corso di accertamento sono andati a sbattere contro un guardrail. L'impatto non ha lasciato scampo ai due morti sul colpo. Il sinistro è avvenuto in direzione Napoli nel tratto compreso tra San Vittore e Cajanello. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, gli agenti della stradale di Cassino che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica della tragedia. Tra le ipotesi al vaio anche quella di un malore per il conducente del mezzo a due ruote che avrebbe poi provocato l'impatto fatale contro le barriere. Inevitabili anche le ricadute sulla circolazione con diversi chilometri di coda che si sono formati e la 1 è rimasta chiusa al traffico per ore. Ora il coronavirus in Campania. 34 nuovi positivi oggi, 24 provengono dall'estero o hanno avuto contatti con persone rientrate e risultate positive. Ma facciamo il punto nel servizio di Rossella Strianese. Sono 34 i pazienti risultati positivi nella giornata di oggi al Covid a fronte dei 1400 tamponi che sono stati processati nei vari centri della Campania. E quanto rende noto l'unità di crisi della regione dei 34 positivi, 24 sono provenienti dall'estero o contatti di precedenti casi di rientro. In particolare si tiene alta l'attenzione su un focolaio in provincia di Caserta, Rocca Monfina, dove si registrano 5 contagi da Covid legati ad un ragazzo positivo di rientro dalla Grecia. Un'altra ragazza rientrata invece dalla Croazia è risultata positiva a Lusciano. Due i positivi nel Salernitano di cui una rientrata dalla Spagna che si aggiunge ai 4 casi legati al rientro di alcuni ragazzi da Malta. Sul fronte dei ricoveri al Cotugno si registrano un paziente in terapia intensiva, 8 in subintensiva e altri 8 in ricovero ordinario. A questi si aggiungono soggetti sospetti sintomatici che necessitano di ricovero in attesa dell'esito del tampone. E man mano che arrivano in Italia sono centinaia i viaggiatori che si stanno segnalando presso le ASL di competenza. 1500 richieste di tamponi sono giunte nelle ultime ore soltanto all'ASL Napoli 2 Nord. Il Dipartimento di Prevenzione ricorda però che un tampone effettuato troppo presto rispetto alle esposizioni al virus potrebbe determinare dei falsi negativi causando gravi rischi per la popolazione. Intanto dal Pascale arriva un video appello registrato dai giovani operatori sanitari sotto lo slogan distanti solo un metro. Un anestesista, una psicologa, un epidemiologa, due ricercatori tutti insieme invitano a non abbassare la guardia. E c'è l'obbligo della mascherina dalle 18 alle 6 del mattino in tutti i luoghi all'aperto dove possono crearsi assembramenti e la nuova stretta del governo per contenere il contagio alla gente si dice d'accordo. Giusto così perché il virus circola ancora. Vediamo. La curva dei contagi continua a salire. In Campania si registrano numeri che non si vedevano da quattro mesi e allora il governo ha deciso una nuova stretta. Se è vero che le terapie intensive non sono affollate come a marzo e aprile è altrettanto innegabile che sia abbassata sensibilmente l'età media dei contagiati e allora preoccupare soprattutto la movida con i suoi luoghi di ritrovo, le piazze, i locali. Per questo il governo ha deciso di imporre l'obbligo di mascherina all'aperto in qualsiasi luogo dove possono formarsi assembramenti dalle 18 alle 6 del mattino. La gente, chi con responsabilità, chi con un pizzico di ironia, legge comunque di buon grado il nuovo provvedimento del governo e tranne qualche sparuto caso si dice d'accordo con questo giro di vite sulle mascherine. Io me la metto la mattina e me la tolgo adesso che vado a casa dopo che apri la porta della casa. È necessario. Si sa, no? Ogni giorno lo dicono per televisione che bisogna aspettare ancora. Sono d'accordissimo. Per me ci vorrebbe ancora più. Visto che sta aumentando. Se no qua non ce ne usciamo mai. Al pomeriggio c'è più affluenza di persone, specialmente nel centro città e poi naturalmente nei negozi si deve mettere. No, non sono d'accordo perché non c'è bisogno. Io sono d'accordo per 24 ore su 24. Non è una questione di rischio, è una questione di prevenzione. Adesso ci sono troppi casi di rinnovo del Covid, quindi bisogna fare molta attenzione. Se uno tiene lacrime, se uno tiene diverse cose personali, la devo abusare. Ma chi sta bene come me, a questa età sto grazie a Dio. E a Salerno scoppia la rivolta dei gestori delle discoteche che annunciano il ricorso al TAR contro lo stop deciso dal governo. Intanto nuovi contagi in provincia, tamponi a tappeto a Castel San Giorgio tra i contatti del fotografo che ha violato la quarantena. E continuano i controlli anti-Covid dei carabinieri nei Lidi e nelle attività turistiche. Oltre la metà risultate fuori legge. Giovan Battista Lanzilli. La mobilitazione nazionale è coordinata con gli altri territori. I gestori salernitani dei locali, discoteche in primis, formalizzeranno nelle prossime ore il ricorso al TAR contro la decisione del governo di fermare fino a settembre le attività danzanti e di ballo. Il settore teme gravissime ripercussioni economiche come sottolinea la guida del sindacato salernitano di categoria. Molte strutture credendo che questa riapertura fosse definitiva e quindi per poter riaprire una struttura che è stata chiusa per quattro mesi si sono indebitati con le banche. Quindi anche grazie alla garanzia del governo. Quindi molti di noi hanno aderito a quelle garanzie e quindi si sono indebitati con le banche. Oggi ci troviamo ancora di più indebitati di come lavoravamo due mesi fa insomma. Secondo me in realtà è che serviva un capri spietorio e quindi il ballo perché fondamentalmente quello che si è chiuso è stato il ballo è stato scelto come capri spietorio. Sì certamente c'è stata la manchevolezza di alcuni di noi ma per pochi ne stanno pagando un'intera categoria. Intanto continuano a crescere i contagi in provincia con gli ultimi casi registrati a Battipaglia e Mercato San Severino. Nella Piana si tratta di una persona rientrata dalla Spagna mentre l'altra è un paziente ricoverato a Ruggi per altre patologie. A Castel San Giorgio si attendono invece i risultati dei circa 50 tamponi effettuati in mattinata sui contatti del fotografo della Sonrisa che avrebbe violato la quarantena presenziando ad altre cerimonie. Abbiamo fatto un centro di raccolta e hanno praticamente fatto tutti i tamponi ovviamente a chi aveva avuto dei contatti diretti col fotografo. Sul fronte controlli da registrare l'attività dei carabinieri del nucleo tutela del lavoro che hanno passato al setaccio negli ultimi giorni stabilimenti balneari e attività turistiche. Oltre la metà delle più di 100 imprese controllate sono risultate manchevoli rispetto alla normativa anti-covid. I militari hanno elevato sanzioni per più di 23 mila euro. E dunque abbiamo sentito discoteche e sale da ballo chiuse in tutta Italia. I cittadini campani plaudono al decreto adottato dal governo per fermare il contagio da covid-19 e dicono giovani indisciplinati e che si divertono senza regole. Solo così con questi provvedimenti restrittivi evitiamo un nuovo lockdown. Sentiamo Simonetta Ieparillo. Discoteche chiuse, i cittadini dicono sì al blocco del divertimento fuori controllo e senza regole che favorisce il contagio da coronavirus. Resteranno chiuse fino al 7 settembre anche le sale da ballo. I cittadini plaudono alla scelta del governo che non consente deroghe regionali. Il problema sono i giovani, non usano le mascherine, non mantengono le distanze. Sì, può servire perché non ci sappiamo controllare e non sappiamo stare distanti, quindi è una giusta precozia. Secondo molti cittadini e turisti in visita a Napoli il problema sono i giovani che non mantengono le distanze e non utilizzano la mascherina. Sì, si fa tutto passamento e le discoteche non seguono le regole. Noi dobbiamo proprio capire, dobbiamo aspettare che tutto passa e stare sereni. Le scuole sono state chiuse per tanto e quindi è più importante la scuola del divertimento della discoteca. Io sono d'accordo, sì. Sinceramente in questo momento non ha senso tenere aperto una struttura del tipo, del genere di discoteca. Ma c'è qualche voce fuori dal coro che punta il dito contro quella che ha il sapore di una mossa politica e senza senso, perché è adottata dopo Ferragosto e dopo due mesi di aperture fuori controllo. Secondo me è sbagliatissimo, non serve a niente. Mi sembra più una manovra politica secondo me. La chiusura delle discoteche non ha senso perché se no non ha avuto senso riaprirle, cioè dal principio non ha avuto senso la manovra comunque, di riaprire tutti i locali e richiuderli dopo un paio di mesi. Spero che le persone abbiano l'intelligenza di continuare a mantenere la distanza sociale, le mascherine, però in questo momento non è facile col caldo. E ora andiamo nel Sannio a Torrecuso, contagiata un'intera famiglia, però si registra anche la prima dimissione. Sentiamo Alessandro Fallarino. Erano saliti a cinque, poi scesi nuovamente a quattro per una dimissione i ricoveri al rummo di Benevento di pazienti positivi al coronavirus. Dai reparti Covid dimessa infatti l'anziana di San Giorgio la Molara, prima positiva della nuova ondata di contagi. Mentre è stata ricoverata la moglie del paziente di Torrecuso che si trova al rummo insieme alla madre dalla scorsa settimana. Sempre nei reparti dedicati alla cura del virus resta anche l'anziano marito della donna di San Giorgio la Molara, che inizialmente era sintomatico e successivamente invece si era aggravato. Nessun nuovo contagio invece è emerso dai 79 tamponi analizzati presso i laboratori dell'azienda ospedaliera di Benevento. Solo un positivo, ma che si tratta di un controllo periodico di una persona già in quarantena perché infettata. Ora la parola d'ordine nel Sannio, come in tutte le altre province campanee, resta la responsabilità. Quella che da giorni chiedono le istituzioni e che è stata richiamata anche con le nuove regole che impongono l'uso della mascherina dalle ore 18 e fino alle 6 del mattino successivo. E dall'ordinanza del sindaco Mastella che ha imposto la misurazione della temperatura durante la Movida, in particolare nei fine settimana. Scende a 11 quindi il numero totale dei positivi nel Sannio. Ora l'attenzione è rivolta sempre ai rientri dalle vacanze all'estero. Sono infatti centinaia in questi giorni le telefonate che stanno arrivando all'asola di Benevento. Per comunicare il rientro, talvolta anche anticipato, è la messa in quarantena. E in Irpinia tre casi negli ultimi tre giorni. Il presidente dell'ordine dei medici di Avellino mette in guardia i giovani. Non siete immuni dal virus? Prendete le giuste precauzioni anche per rispetto dei più anziani. Vediamo. Tre contagi nel weekend di Ferragosto in Irpinia riguardano persone residenti ad Aiello del Sabato, Montella e Montoro. Ad Aiello a rimanere contagiata è stata una ragazzina di 16 anni rientrata da Malta. Cinque le persone, tutti familiari, che sono state isolate in attesa dei tamponi. Stessa sorte per un uomo di Montella, anche egli rientrato da un viaggio all'estero. Il nuovo caso a Montoro riguarda invece un cinquantenne. Salgono così a 588 i positivi in provincia di Avellino dall'inizio dell'epidemia. Nel frattempo ad Altavilla si sono concluse le verifiche sui familiari e i possibili contatti di una persona del posto residente a Sant'Antonio Abbate rimasta contagiata nel focolaio napoletano. Tutti i negativi, ha fatto sapere il sindaco Manni, che ha rassicurato la popolazione. E il presidente dell'ordine dei medici, Sellitto, invita tutti, soprattutto i giovani, a tenere la guardia alta. Io mi rivolgo ai giovani per dire loro di non pensare che il virus ha menore effetti sulla loro salute. Purtroppo gli eventi di questi giorni stanno dimostrando che anche i giovani si ammalano e si ammalano anche gravemente. Quindi devono fare molta attenzione, soprattutto nel rispetto di coloro più anziani con patologie di rischio. Nel momento in cui andremo verso il periodo autunnale, verso il periodo influenzale, quando ad essere colpiti probabilmente saranno le persone più anziane, allora è chiaro che si può avere un sovraffollamento delle strutture sanitarie pubbliche e quindi anche delle terapie intensive. Io mi auguro che non succeda, però il rischio è grosso, quindi cerchiamo di evitarlo perché sennò salterà il sistema sanitario regionale. Chiudiamo qui l'ampia pagina sul Covid. Cambiamo argomento. Un uomo di 63 anni, Gennaro De Falco, di Lago Patria, in provincia di Napoli, è stato arrestato per l'omicidio della moglie. Lo scorso 12 luglio aveva allertato 118 carabinieri dicendo di averla trovata impiccata, ma l'autopsia ha confermato che la donna è morta per strangolamento. Sentiamo. Alle forze dell'ordine aveva raccontato di essersi svegliato e di aver trovato la moglie morta, impiccata nel salotto della loro abitazione. Ma già quando erano arrivati i sanitari emersero i primi sospetti e oggi sono scattate le manette per Gaetano De Falco, 63enne di Lago Patria, accusato dell'omicidio di Romana Danielova, 55 anni, originaria della Repubblica Ceca. L'episodio risale allo scorso 12 agosto. A chiamare il 118 carabinieri era stato lo stesso 63enne, 63enne, spiegando che la moglie, che a suo dire già soffriva di squilibri mentali, si era impiccata mentre lui dormiva. Già dal primo sopralluogo i carabinieri di Giuliano avevano però notato che qualcosa non quadrava. Il cordino con cui la donna si sarebbe impiccata era troppo sottile per non cedere sotto il peso del corpo. La prima visita poi aveva evidenziato la presenza di segni sul collo. Il cordino della tenda alla quale la donna si sarebbe dovuta impiccare non avrebbe mai potuto reggere il peso di un corpo umano. E mancava di un nodo, per cui la dinamica era assolutamente già delle prime battute, poteva sembrare inverosimile. L'autopsia ha confermato tutto ciò. Tra i due c'erano stati frequenti litigi dovuti a dissidi economici legati alla gestione di un centro medico. La donna era titolare del centro oftalmico internazionale soviet di Lago Patria, in via Staffetta. L'autopsia ha confermato il sospetto. La donna non era morta per impiccagione, ma per strangolamento preceduto da una colluttazione. Il 63enne, ritenuto gravemente indiziato del femminicidio, è inoltre indagato per lesioni personali gravi a un'altra donna, medico del 118, intervenuta quel giorno nell'abitazione. L'aveva aggredita perché, a suo dire, era responsabile di non aver predisposto alcuni giorni prima un TSO per la moglie. In pratica, prima di simulare il suicidio della donna, aveva provato a farla ricoverare per presunti disturbi mentali. Ora andiamo nel centro storico di Napoli. Piazza del Gesù e stradine adiacenti da oggi diventano aria pedonale. Scettici però i commercianti così si uccide il turismo, dicono. Erano sufficienti i divieti precedenti. Vediamo. Non convince la scelta del Comune di Napoli di convertire Piazza del Gesù e stradine limitrofe da zona traffico limitato ad aria pedonale. Non ne capiamo il senso, raccontano residenti e commercianti del centro storico, se non quello di limitare ancora di più gli accessi e stroncare definitivamente il turismo già agonizzante nel dopo lockdown. Registriamo qualche voce fuori dal coro, per il resto tanti dubbi e le perplessità sulla decisione fortemente sponsorizzata dal vice sindaco Panini, dall'assessore al patrimonio Clemente e dall'assessore al commercio Galiero. È già pedonalizzata. Passano solo qualche macchina dei residenti, ma è pedonalizzata già. Addirittura ci sono delle persone anziane che vanno in chiesa, che fermano la macchina, qua sono costrette ad andare in chiesa a piedi. Ma gli abitanti comunque saliranno, i mezzi di soccorso saliranno, i taxi saliranno, non capisco questa zona pedonale, questo non capisco. Tra ZTL prima o zona pedonale oggi non vedo differenze, il passaggio delle macchine è molto poco, anzi è quasi zero. Se fanno passare i mezzi turistici e ci aiutano, visto che i turisti sono così pochi, ci aiutano a non creare altri paletti, può essere una cosa utile. Spero che porta un po' di movida in più nel senso turistico. Sta migliorando, da ieri già non ce ne sono le macchine, si può andare bene. È una cosa positiva sicuramente, ma miglioramenti non ce ne sono, perché comunque ho notato circolare delle macchine e quindi la situazione non è cambiata molto. Forse la notizia non è ancora arrivata a tutti quanti, però ci sono macchine che continuano a circolare. L'area pedonale non comprende soltanto la piazza, ma il tratto di via Benedetto Croce che va dalla piazza a via Santa Chiara, via Domenico Capitelli e la zona di via Cisterna dell'Olio. Verso le regionali salta l'accordo tra De Mita e Renzi per creare una lista comune a sostegno di Vincenzo De Luca. Il sindaco di Nusco nega intese con l'ex premier, mentre il vice di Renzi, Rosato, chiarisce noi siamo un'altra cosa. Sentiamo. La notizia era circolata negli ultimi giorni ed era a suo modo clamorosa. Matteo Renzi e Ciriaco De Mita dopo gli scontri del 2016 erano pronti a riappacificarsi per presentare una lista unica a sostegno di De Luca alle regionali in Campania. Ma il progetto sembra si sia dissolto prima ancora di nascere. La rottura sarebbe avvenuta già nella notte tra il 14 e il 15 agosto e a certificarla definitivamente è l'intervista rilasciata al Corriere della Sera dallo stesso De Mita. L'ex leader della DC ammette di aver incontrato il numero due di Italia Viva, Ettore Rosato, in quel di Nusco, ma solo per parlare di popolarismo. Sulla presunta fusione chiarisce la cosa è falsa. Renzi ha interrotto i rapporti con me da un secolo. Quello che penso io di lui e anche quello che pensa di me è noto a tutti, dice il sindaco di Nusco. Poche ore dopo arriva anche la versione del braccio destro di Renzi sulla sua pagina social. L'onorevole De Mita mi ha cortesemente invitato a fare una riflessione insieme sul futuro del popolarismo. Da questo ha evidentemente pensato che io potessi essere d'accordo a cambiare il simbolo della lista d'Italia Viva perché anche lui e i suoi amici potessero candidarsi in Campania. Ma noi siamo un'altra cosa, sottolinea Rosato. Sono interessato a discutere con De Mita di Sturzo, ma non a consegnargli le liste d'Italia Viva di Avellino. Secondo indiscrezioni, la rottura si sarebbe consumata proprio a livello locale, dove i candidati d'Italia Viva avrebbero alzato le barricate contro l'arrivo dei De Mita. Ma non c'è solo questo. Secondo i rumors, per sancire l'alleanza De Mita avrebbe chiesto ai renziani di blindare la candidatura alle politiche del nipote Giuseppe De Mita. A quel punto i renziani, già poco entusiasti, si sarebbero sfilati. Per entrambi resta da sciogliere ora il nodo delle candidature, in particolare per i popolari che pur potendo contare su una base solida in Irpini e Sannio, sono ancora deboli su Napoli e Caserta. Ma manca ancora una settimana la chiusura delle liste e i giochi potrebbero ancora riservare delle sorprese. Abbiamo argomento, rischia fino a 3.000 euro di multa la turista che a Ferragosto è salita sul tetto delle terme degli scavi di Pompei per scattarsi una foto. E il caso del selfie selvaggio è solo l'ultimo di una lunga serie di sfreggi al parco archeologico di Pompei. Vediamo. Dopo i crolli di qualche anno fa, i furti, i banchetti, gli sfreggi ai mosaici, torna il selfie selvaggio tra gli scavi di Pompei. Una donna a Ferragosto è salita sul tetto delle terme nel parco archeologico per fotografarsi mostrando quanto spesso il turismo inconsapevole è forzato, punti più alla foto che all'osservazione accurata dei luoghi. La turista è stata però fotografata e ora monta lo sdegno dopo un'indegnazione via sociale e un polverone che si è alzato anche sui controlli che si applicano all'interno degli scavi. È stata aperta una indagine dalla sovrintendenza. La giovane, di cui per ora non si conosce l'identità e neanche la nazionalità, ha violato il divieto e infranto il regolamento del parco che espressamente proibisce di salire, ma anche solo di sedersi o di appoggiarsi sui monumenti del sito. I biglietti prenotati sono nominativi e quindi qualora la sovrintendenza ritenesse opportuno identificare la turista per sanzionarla, si potrebbe risalire alle sue identità. Lo scandalo si è consumato nelle terme centrali, ma è solo l'ultimo episodio di una lunga serie di eventi che hanno scandito una sorta di storia parallela della rinascita degli scavi. Nell'aprile del 2019, andando a ritroso, una turista aveva deciso di assicurarsi un souvenir speciale, portando via alcuni tasselli di un mosaico nella Domus dell'Ancora. Si trattava di una donna inglese di 20 anni. Il 3 giugno del 2018 un turista francese si era fatto una foto posando comodamente adagiato su una colonna del parco. Senza dimenticare il caso del turista spagnolo di 80 anni che, colto da un improvviso e incontenibile bisogno fisiologico, decise nel 2017 di fare i suoi bisogni nella Domus del Menandro. L'uomo venne denunciato, come anche il gruppo di persone che decisero di banchettare tra le strade del parco. Un convivio, quello che si tenne, tra le vie degli scavi eterni. Quasi tutte le attività sono rimaste aperte anche nella settimana di ferragosto e nonostante i saldi la crisi resta. Così il presidente di Confcommercio Benevento, Nicola Romano, che commenta, purtroppo il dato per il commercio è ancora negativo. Inma Tedesco. Nonostante i saldi alle aperture di ferragosto, per il commercio la ripresa dopo il lungo periodo di chiusura imposto da lockdown appare ancora molto lontana. Rispetto allo scorso anno, secondo i dati della Confcommercio di Benevento, oltre l'80% delle attività sono rimaste aperte nella speranza di migliorare le sorti delle vendite. Insieme al presidente dell'associazione di categoria, Nicola Romano, parla di numeri ancora negativi. Purtroppo è crisi profonda. Questo ferragosto non è servito sicuramente a mitigare quelli che potevano essere i dati negativi, già purtroppo emersi all'inizio del mese. Commercio, abbigliamento, tutto quello che è merchandising è negativo. Il saldo, purtroppo i saldi sono stati negativi. Questo ferragosto, a differenza degli altri anni, la maggior parte delle attività avevano cavalcato il motto aperti per ferie. Non ci sono stati riscontri di nessun genere, insomma. È mancato proprio lo spirito di acquisto per determinati beni. In tanti, infatti, hanno scelto di non chiudere quest'estate. Noi abbiamo avuto un indice di apertura superiore del 80-90% rispetto agli altri anni. Oreficerie tutte aperte, articolo di regalo tutte aperte, abbigliamento e calzatura aperte al 90-95%. Qualcuno ha pattato per il weekend corto. Possiamo dire che tutte le attività, ovviamente, hanno scelto di tirare sulla sarracinesca. Ci si aspettava qualcosa di più, diciamo, si era fiduciosi. L'Irpinia piange Leonardo Guarino, il 24enne di Aielo del Sabato, deceduto dopo 15 giorni di coma. Era in auto insieme al suo coetaneo, Joseph Bonfino, morto sul colpo quando si sono schiantati con l'auto lungo la statale Ionica, nel comune di Monte Giordano, in Calabria, sul web. Il cordoglio degli amici. Vediamo. Anche il cuore di Leonardo Guarino si è fermato. Il 23enne di Aielo del Sabato ha smesso di lottare. Il giovane era ricoverato in ospedale a Policoro dal 31 luglio, giorno in cui è rimasto ferito nell'incidente stradale avvenuto in Calabria. Nell'impatto è morto sul colpo. Ha anche Joseph Bonfino alla guida della sua Ford Mondeo. La salma del 23enne, a disposizione dell'autorità giudiziaria, la famiglia ha deciso di celebrare in forma privata la cerimonia funebre. Ad Aielo c'è dolore sconcerto. In questi 15 giorni tutti hanno sperato in una sua ripresa, pur in considerazione della gravità del quadro clinico. Diversi messaggi di cordoglio per la scomparsa di Leonardo, anche da parte dell'amministrazione comunale. Il vice sindaco Sebastiano Gaeta scrive su Facebook Ciao Leonardo, ti ricorderemo sempre per il tuo essere spirito libero, sorridente e tanto educato. Intanto l'associazione Basta Vittime sulla statale 106 lancia un nuovo appello per la messa in sicurezza della strada, teatro di tanti incidenti mortali. L'auto dei giovani è urtata il cordolo all'interno della galleria prima di finire contro le pareti, girandosi più volte su se stessa, terminando la sua corsa contro un autobus di linea. Sul posto sono arrivate le ambulanze e una pattuglia della stradale. Ai sanitari e agli agenti la situazione è apparsa subito molto grave. Joseph Bonfino è morto sul colpo, mentre ieri è spirato anche Leonardo Guarino. Rigore e sicurezza, così la costiera amalfitana è riuscita a salvare l'estate, nonostante l'assenza dei turisti stranieri. Il weekend di Ferragosto ha fatto registrare numeri da sold out, controlli e sanzioni dei carabinieri nei luoghi della Movida. Filippo Notari. Fronteggiare l'assenza dei turisti stranieri, proponendo un'immagine di rigore e sicurezza, un binomio che sta consentendo alla costiera amalfitana di salvare l'estate e di avviare la risalita dopo il lockdown. Il weekend di Ferragosto ha fatto registrare numeri da tutto esaurito nei comuni della Divina, ma per evitare ogni rischio si è fatto affidamento comunque a regole ferre, chiusura per quanti non avevano prenotato, in spiaggia o ristorante, ingressi contingentati, termoscanner, registrazione dei dati anagrafici e anche del numero di telefono. Sicurezza e prevenzione al primo posto in costa d'Amalfi a minori città del gusto. Abbiamo avuto il coraggio di dire che se i turisti non hanno una prenotazione in uno stabilimento balneare, in un albergo, in un extraalberghiero, è inutile che si inoltrino in costa d'Amalfi. Un turismo organizzato, senza sembramenti, rispettando le misure di sicurezza. Proprio l'elevato numero di turisti presenti ha indotto i carabinieri della compagnia di Amalfi a intensificare i controlli nei luoghi della Movida. A Maiori, nella frazione di Erchie, sono state elevate tre sanzioni per occupazione abusiva di suolo pubblico. I carabinieri, inoltre, in uno dei locali, hanno appurato la presenza di assembramenti e la vendita di alcolici d'asporto fuori dall'orario consentito. L'attività è stata sanzionata con la multa di 1000 euro e la chiusura per cinque giorni. A Positano, invece, è stata multata una discoteca sulla marina della Perla della Costiera, in quanto numerosi avventori sono stati sorpresi a girovagare tra i tavoli senza mascherine. E va bene, ci fermiamo qui per stasera. Grazie regia ad Enrico Coppola, vi lascio alle previsioni del tempo e vi auguro una buona serata. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.